Lunedì, traffico bloccato nel Lecchese, il primo cittadino, Mauro Gattinoni, torna a invocare il quarto ponte. Proprio alla vigilia della riapertura della Lecco Vallabio, con la circolazione compromessa a causa della frana ancora per poco, due incidenti, proprio nell'orario di punta, mandano in tilt la SS36 e Rioni della città per più di un'ora. Il destino si fa beffe degli automobilisti, ma intanto offre al sindaco del capoluogo l'opportunità di manifestare ai cittadini nella necessità del ponte Lecco Pescate, non solo in entrata, ma anche in uscita. Il progetto dell'opera, finanziata da ANAS e voluta dal sindaco di Pescate Dante De Capitani, prevede solo una corsia in direzione Lecco affiancata da una pista ciclabile. La giunta del capoluogo preme sulle istituzioni affinché al posto della ciclabile venga fatta una corsia carrabile in uscita. Esprimo sostegno ai Lecchesi e non rimasti per lungo tempo in coda, «Noi continueremo il nostro impegno perché si realizzi un'opera logica ed essenziale per Lecco e per il territorio», scrive Gattinoni in un posto su Facebook a poche ore dal secondo incidente. Il primo avvenuto alle 16.55 in Galleria Montebarro in direzione Milano e Monza e coinvolto tre persone di 27, 34 e 44 anni trasportate in codice verde al Manzoni. Il secondo alle 17.45 in Galleria San Martino, stessa direzione e stesso esito con l'automobilista, rimasto illeso. Ma tanto è bastato a bloccare a lungo città e statale. Un quarto ponte avrebbe agevolato il flusso e ridotto le code. Pensare che c'è chi non lo vuole e riprende nello stesso posto il sindaco, riferendosi alla maggior parte della minoranza che nel Consiglio Comunale dello scorso ottobre aveva votato a sfavore dell'opera e la disputa con il primo cittadino di Pescate. A quanto pare Gattinoni non ha fatto intenzione di mollare.